Il progetto è partito da poco, è un progetto finanziato dal programma Life ed è un progetto di comunicazione e di informazione per tutti. L'obiettivo è quello di far aumentare la conoscenza sulle specie aliene invasive e sulle problematiche connesse a queste specie. Anche perché di recente l'Unione Europea ha comunque adottato un regolamento che l'Italia dovrà rispettare. Ci rivolgiamo un po' a tutti, abbiamo dei corsi di formazione per le amministrazioni pubbliche per appunto presentare il regolamento perché poi loro lo dovranno attuare nella pratica. Abbiamo incontri negli zoo, negli orti botanici perché comunque ci sono una serie di buone pratiche, di comportamenti che ognuno di noi può mettere in campo per limitare la diffusione o prevenire l'arrivo di alcune specie. Basti pensare a quando andiamo a comprare degli animali da compagnia nei negozi, anche in questo caso faremo della formazione ai commercianti perché comunque alcune specie particolarmente impattanti non potranno più per esempio essere vendute. Quindi lo scopo è proprio cercare di far capire che alcune specie, non tutte, le specie quindi aliene invasive, non tutte le specie aliene, sono un problema e bisogna tutti contribuire al loro contrasto.